Penso che Vincent continua ad avere la stessa passione nel suo lavoro e penso che questa è la sua forza. Penso che fa sempre delle scelte molto coraggiose, è sempre la ricerca di film che lo mettono davanti alla prova. Quindi penso che questo è una delle più belle qualità di un attore, conservare questa passione e questo coraggio di scelte non sempre facili. Grazie Monica. No, per dire la verità abbiamo fatto quasi otto film insieme, non in pochi, scusa, è molto la verità. Però quello è il più importante, penso, il più forte, il più... sì, il più importante. Le qualità di Monica sono tante. Penso che è un'attrice che... Non so se ci dì. No, no, io mi piace tanto Monica come attrice, dai. Grazie. 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 Grazie.